Due fatti negativi sono riferiti a Gesù nel Vangelo di questa domenica. Pilato ha soffocato nel sangue una ribellione degli zeloti probabilmente e si trova proprio questo avvenimento accade proprio vicino al Tempio e questo scandalizza molto probabilmente e l'altro invece è una disgrazia, cade una torre e ci sono molte vittime. Gli osservatori più acuti del tempo cioè coloro che vanno a riferire a Gesù questi fatti dolorosi, questi fatti negativi, queste situazioni difficili avvertono e evalutano queste situazioni secondo una logica che li fa diventare anche un po' impazienti. Dicono c'è una situazione difficile, qui bisogna prendere i colpevoli, bisogna trovare un rimedio urgente. Percepiscono l'urgenza delle situazioni e vorrebbero arrivare con impazienza a una soluzione e la loro soluzione è secondo una logica retributiva. Qualcuno ha sbagliato, se succede una disgrazia ci saranno dei colpevoli, bisogna colpire i colpevoli. La stessa cosa poi accade nella parabola raccontata da Gesù per reagire a questo atteggiamento, a questa urgenza vissuta con un'impazienza del giudizio o di una soluzione non adeguata a risolvere, a cambiare realmente la situazione. È un viticoltore che si arrabbia perché il fico che è nel suo vigneto non produce frutti da tre anni e allora dice taglialo. Anche qui vede una situazione difficile e vuole intervenire con urgenza e senza nessuna forma di pazienza. La stessa esperienza l'aveva vissuta Mosè prima di quell'esperienza che è raccontata nella prima lettura della terza domenica che stiamo vivendo. Mosè era una persona molto insensibile, molto intelligente, un osservatore acuto della situazione del suo popolo. Aveva notato che questo popolo era oppresso allora con urgenza ma con altrettante impazienza reagisce e uccide uno di coloro tra i guardiani del faraone che trattava male il popolo di Israele. Anche questo è una soluzione troppo affrettata davanti a un problema urgente e il momento che invece sta vivendo Mosè quando è costretto alla fuga e vive quindi da molti anni a fare il pastore e si avvicina al monte Oreb che è il monto della vicinanza di Dio è una educazione che il Signore fa, una trasformazione che il Signore opera nella sensibilità di Mosè per renderlo una persona attenta ma anche paziente, capace quindi di reagire positivamente davanti alle situazioni negative, alle situazioni difficili. Mosè ha un'esperienza straordinaria, un roveto arde, brucia, fa luce, fa calore ma non si consuma. Chiaramente è un'esperienza teofanica, una manifestazione di Dio e Mosè vorrebbe avvicinarsi e da osservatore attento qual è vuole avvicinarsi proprio a controllare la situazione ma viene fermato, dice la voce dal roveto dice Mosè non avvicinarti, togliti i sanderi, il luogo sul quale tu stai arrivando è un luogo sacro, c'è una presenza particolare di Dio. Mosè vuole osservare, vuole controllare, forse vuole addomesticare l'esperienza ma l'esperienza non è controllabile, non è addomesticabile perché si tratta dell'esperienza di Dio, devi avere pazienza, non puoi controllare tutto. Il fuoco di fatti è il simbolo di questa presenza della divinità che essendo senza contorni, sempre in movimento, non puoi contenerla, è incontenibile però nello stesso tempo produce calore, produce luce e quindi è un segno di grande vitalità di vita, è una presenza singolarissima. Se tu la vuoi troppo controllare vuol dire che non è Dio, non si può troppo addomesticare Dio, difatti fermati, sospendi il tuo avvicinamento ma che non vuol dire estranità o esclusione, difatti la parola arriva ma la parola arriva da all'altro e non da te stesso e il Signore si manifesta e si manifesta rivelandosi come colui che aveva già osservato la miseria del popolo, la situazione difficile del popolo ma che vuole intervenire in un modo nuovo, non certo in un modo violento quindi impaziente ma con la stessa urgenza ma nella forma della vicinanza paziente. Ho visto la miseria del mio popolo, sono sceso, voglio aiutarlo, voglio camminare e lo invito a camminare con me, tu Mosè sarai il mio strumento, ti invio proprio per fare questo. Un'altra volta Mosè è ancora un po' impaziente, vuol sapere il nome di Dio e Dio gli dice sì il mio nome è la mia presenza, il mio nome non è tanto conoscibile, è piuttosto invocabile e adorabile, io e te dobbiamo vivere una relazione di invocazione, di ascolto, di dialogo e allora cammineremo pazientemente sul sentiero del futuro e sul sentiero del cambiamento. È lo stesso significato della parabola di Gesù. Certo occorre cambiare quando le situazioni non vanno bene, quando le situazioni sono difficili, il fico che non dà frutti ma occorre farlo dando all'altro la possibilità del cambiamento e come si fa a dare all'altro la possibilità del cambiamento? Gli si dà il tempo e ci si prende cura della sua situazione. Ecco allora quel contadino, quel vignaiolo che voleva tagliare l'albero è invitato a lasciarlo ancora per un anno, a dargli il tempo perché abbia la possibilità del cambiamento, ma non solo a dargli il tempo ma a prendersene cura nel frattempo. Ecco padrone lasciala ancora quest'anno finché gli avrò zappato attorno, avrò messo il concime. Delicatissimo questo atteggiamento. Allora qual è la forma, come la forma della relazione autentica con Dio è la forma della invocazione e della relazione per vincere l'impazienza e nello stesso tempo rispondere con urgenza ai problemi e quindi stare in relazione costante, lasciarsi guidare dal Signore così la relazione con i propri difetti, con i propri peccati, con il peccato degli altri, la relazione giusta è quella di concepire il tempo che ci è dato come il tempo della possibilità del nostro cambiamento e lasciare che qualcuno si interessi di noi, si prenda cura del nostro cambiamento e ci accompagno o essere noi stessi a prenderci cura quando vediamo il negativo negli altri, del cambiamento degli altri e una delle forme più belle come che ci viene suggerita dal Vangelo è l'intercessione. Dice padrone lascialo ancora quest'anno, è una forma di intercessione. Se con il Signore la forma è l'adorazione e l'invocazione, nella relazione con il fratello che è in difficoltà, la forma è la cura che percorre la via dell'intercessione perché la nostra presenza, il nostro aiuto non sia un'invasione.